Sciopero alla busta di Tolentino. I lavoratori dello stabilimento marchigiano e anche dei due siti produttivi bergamaschi protestano per il mancato pagamento degli stipendi di giugno e per le prospettive incerte dell'azienda. Francesco Monti. Non si sblocca la situazione alla busta di Tolentino. Oggi una giornata di sciopero nella sede marchigiana, un centinaio di lavoratori, e nei due stabilimenti bergamaschi dove lavorano 800 dipendenti. Non è ancora stata versata la mensilità di giugno, a cui si aggiunge ora quella di luglio. Nessuna risposta dall'azienda nonostante le sollecitazioni dei sindacati. Soprattutto qui il problema di fondo è qual è il futuro, quali sono le prospettive per le lavoratrici e i lavoratori di questa azienda che si trovano di fronte a un stato di incertezza totale, dagli stipe fino alle prospettive reali di tenuta di questa azienda. Alla base della crisi, secondo la proprietà Lombarda, problemi di tipo finanziario che impedirebbero la piena ripresa della produzione. Una produzione peraltro con caratteristiche fortemente stagionali, agende e diari. Per questo il timore dei sindacati è che, senza una ripresa in tempi brevi, sia a rischio la stessa sopravvivenza dell'azienda. Vorremmo sapere per questo stabilimento che cosa hanno in mente in futuro. Questo è uno stabilimento storico, ha 100 e passa anni di storia. Per il territorio, a livello sociale è stato molto importante, ha contribuito da mangiare a parecchie famiglie. Delicata anche la posizione dei lavoratori prepensionati nell'ambito del piano di risanamento varato nei mesi scorsi. Abbiamo diverse persone, circa una ventina, che sono uscite in prepensionamento con la legge sull'editoria, che si trovano ad oggi senza ancora la pensione e senza le spettanze del TFR, il Fondo Complementare Pensionistico, che l'azienda si era impegnata ad erogare anche a Tranche.